se non ce la facciamo da sole a ritornare in forma la tecnologia ci dà una mano ne voglio parlare con l'esperta ariana serdei del centro benessere fisico di tiene trissino ariana grazie per aver accettato il mio invito io vorrei tranquillizzare innanzitutto le mamme si può tornare al peso forma si diciamo che l'obiettivo di tutte le mamme e l'importante è riuscire a fare le cose giuste e non farsi prendere dall'ansia c'è bisogno del suo tempo la pelle torna sicuramente ha una capacità di elasticità la pelle che è una cosa pazzesca e sorprendente l'importante è ripeto fare le cose giuste oggi la tecnologia ci offre veramente dei macchinari incredibili cose che una volta non c'erano ci si affidava su dei massaggi infatti quello che noi stiamo vedendo adesso nelle immagini sono un po' l'ultima tecnologia che cosa fa questa macchina al nostro corpo diciamo che questo macchinario è un macchinario appunto di ultima generazione utilizzando quattro diverse tecnologie in un unico manipolo quindi un unico passaggio concentriamo quattro diverse energie che hanno un'efficacia amplificata fa praticamente la radiofrequenza uno stimolante per le nostre cellule quindi stimola a riprodurre le fibre elastiche dallo svuotamento che noi abbiamo avuto questo tessuto è stimolato a ridurre questi volumi abbastanza in fretta normalmente ma con questa tecnologia con la radiofrequenza viene accelerato tantissimo questo processo che è naturale ma viene stimolato di più significa che noi perdiamo anche oltre che i centimetri in cellulite sicuramente un altro problema appunto della gravidanza è proprio la ritenzione di liquidi e grazie a un massaggio come dicevo prima ci sono quattro tecnologie uno la radiofrequenza uno il massaggio vacuum che proprio richiama i liquidi superficie con un continuo massaggio e fa poi veicolare tutti i liquidi in eccesso verso la circolazione e di conseguenza li espeliamo con le urine ci sono altri trattamenti però oltre alle macchine che voi consigliate per riuscire a dare a tutto tondo un servizio completo abbiamo appunto la talassoterapia è questo macchinario dove si fanno delle applicazioni di fanghi e diciamo il trattamento più classico che però è sempre molto apprezzato insomma la mamma con te sarebbe al sicuro sì diciamo che lo posso anche dimostrare provato su su di me ciao ciao ciao